Allora ragazzi, sette utili consigli per i tifossi Granata che stanno invadendo Milano o che sono già arrivati nella capitale del nord. Allora, numero uno, copritevi perché a Milano fa freddo. Numero due, attenzione, attenzione alla nebbia, attenzione alla nebbia molto pericolosa perché la nebbia ci sta ma non si vede. E poi dite come la facciamo a vedere? Ma quella è una cosa che penetra. Numero tre, un'altra cosa molto importante, attenzione alle bufere. Le bufere, quelle entrano addirittura nei palazzi. Numero quattro, appena arrivate a Milano è d'obbligo andare a vedere il Colosseo. Numero cinque, mi raccomando fatevi una foto, è d'obbligo farsi una foto con alle spalle la scala di Milano. Se non vedete la scala vuol dire che sta dentro. Numero sei, non attraversate la strada che è molto pericoloso. E numero sette, numero sette, la cosa più importante, se vedete per strada qualche generale austriaco non dovrete procurarvi. Siamo alleati, ok? E forza Granata. Grazie a tutti.